ti va di lavorare a maglia ciao sono rosalba e questo il mio canale il bandolo intrecciato oggi lavoriamo a maglia a un progetto facilissimo eccoci qui a un nuovo progetto top crop crop top e che sarebbe nient'altro che un maglioncino tagliato cioè corto infatti partiamo da sopra l'ombelico e poi sviluppiamo la lunghezza del busto questo progetto è pensato proprio per chi non è tanto abile a lavorare a maglia che si sta approcciando ai primi lavori più complessi come lavorare un maglione questo lavoro è molto veloce facile da realizzare e te lo mostrerò passo passo puoi modificare il le misure del tuo maglioncino rendendolo anche un maglione più lungo basterà aumentare il numero di ferri di centimetri prima di arrivare alle calature e così potrei fare anche per le maniche cominceremo a lavorare le maniche e quindi arriveremo allo scalfo con i centimetri che ci sono necessari per avere la lunghezza della manica desiderata io ovviamente ti dirò le varie misure del mio toppino ti consiglio di preparare un campione come ti ho già mostrato anche in un altro video dove potrai capire quante maglie sono necessarie per realizzare il tuo progetto con il tuo filato i tuoi ferri e la tua mano io ho fatto il campione e per realizzare 45 centimetri della larghezza del mio maglioncino ho avuto necessità di montare 76 maglie dopodiché ho lavorato per 17 18 centimetri prima di arrivare agli scalfi e poi ti mostro come ho realizzato gli scalfi ho semplicemente intrecciato tutte le maglie e questo è il mio pezzo davanti che è uguale al pezzo dietro quindi andrò a realizzare due pezzi completamente uguali larghi 45 alti 17 fino allo scalfo ho realizzato lo scalfo e questa parte misura 21 centimetri ora tu misura il tuo corpo il tuo progetto aiutati anche con una maglietta che sai che ti sta bene ed è quelle ed sono quelle le misure che vuoi realizzare prepara il campione dal quale capirai quante maglie montare e poi realizza insieme a me il tuo top crop ora spostiamoci al tutorial una volta che abbiamo stabilito quante maglie ci occorrono per il nostro lavoro andiamo ad avviarle e questa volta vi faccio vedere un avvio un po diverso prendiamo il filo abbiamo con due ferri ma puoi usarne anche uno se ti risulta difficile questa è la parte di filo che finisce nella codina e questa invece la parte di filo che finisce al gomitolo quindi lasciamo filo a sufficienza per preparare le nostre maglie questa è la codina avvolgiamo in questo modo il filo e andiamo ad avviare le nostre maglie ferri dietro li passiamo in questa maniera formando già la nostra prima asola andiamo a passare i ferri in questo modo raccogliamo con i ferri il filo che sta sull'indice e passiamo attraverso la sola del pollice continuiamo così quindi ferri sotto la solina che si viene a formare nel pollice raccogliamo il filo dell'indice passiamo attraverso con il pollice diamo tensione alla nostra maglia e arriviamo fino al numero di maglie che c'è necessario io ne lavorerò 76 ecco qua ho realizzato le mie maglie ne ho realizzate 75 perché per il punto che andrò a utilizzare mi fa più comodo avere un numero di maglie dispare anche se lavori con un punto pari per il punto che andremo a lavorare non fa differenza e andremo a lavorare un punto grana di riso doppio quindi siamo a questo punto andiamo a sfilare uno dei due ferri dal lavoro ecco qua e questo guarda già quanto è morbido andiamo quindi a cominciare il lavoro con un ferro di maglie a rovescio prendiamo il filo ferro il filo deve stare sopra il ferro per fare la maglia a rovescio ecco qua infilo il ferro nella maglia filo intorno al ferro scavallo e faccio cadere la maglia e faccio questo per tutto il ferro come ti dicevo già anche nel video dove ti spiego la grana di riso doppia il ferro a rovescio o a dritto iniziale non è un ferro del punto grana di riso ma è semplicemente un ferro che mi permette di avere una lavorazione che in questo caso mi piace di più quindi a gusto personale se vuoi e come vuoi cominciare subito con il punto grana di riso salta questo passaggio e inizia a lavorare con i ferri della grana di riso che ti mostrerò subito dopo aver fatto questo ferro bene ho appena finito il ferro a rovescio e come ti ho scritto all'inizio del video quando ti dicevo che ho avviato un numero di spari di maglie in realtà pari perché mi sono confusa con la maglia grana di riso e maglia grana di riso doppio quindi siccome andrò a lavorare una grana di riso doppio va benissimo un numero pari di maglie e ti mostro subito perché ora vado a lavorare una maglia al dritto quindi filo davanti al lavoro ferro attraverso la maglia filo sul ferro passo attraverso e lascio cadere la maglia ora filo dietro il ferro questo è indispensabile e ti faccio vedere perché proviamo a lavorare una maglia al rovescio senza passare il filo osserva bene cosa succede ecco qui sembrerà che ho tre maglie anziché due è come se io avessi lavorato un gettato tra le due maglie il gettato serve proprio per aumentare le maglie per fare dei disegni delle forature sul quindi filo dietro e andiamo a lavorare una maglia al rovescio ancora filo avanti maglia al dritto filo dietro maglia al rovescio ancora e faccio così fino alla fine del ferro una maglia al dritto e una maglia al rovescio e ci vediamo a fine ferro ecco qua lavorando una maglia al dritto e una al rovescio quando arrivo alla fine del ferro la mia ultima maglia sarà una maglia al rovescio questo è al dritto e questa al rovescio ora devo ripetere lo stesso ferro voltando la mia maglia al rovescio si mostra al dritto e io devo andare a lavorare le maglie così come si presentano quindi questa è una maglia al dritto la lavorerò al dritto questa è una maglia al rovescio e la lavorerò al rovescio questa al dritto quindi dovrà andare a ripetere esattamente lo stesso ferro per questo ti dicevo se ha un numero pari di maglie sarà molto più facile perché iniziando a dritto finisco a rovescio volto il lavoro e senza dover pensare in che modo dover ricominciare il ferro lo ricomincio di nuovo al dritto quindi vediamo ancora una volta come fare una maglia al dritto e una maglia al rovescio dritto su dritto rovescio su rovescio dritto questa è una maglia al dritto e questa è una maglia a rovescio e vado così fino alla fine del mio ferro bene abbiamo terminato il nostro secondo ferro e ora cambierà qualcosa allora ho finito con una maglia a rovescio giro e questa maglia al rovescio risulterà al dritto ora devo andare a fare un ferro di maglia al dritto di maglie un al dritto e un al rovescio ma questa volta lavorerò al contrario di come si presentano quindi andiamo a lavorare la maglia al dritto a rovescio quindi ferro dietro il lavoro la maglia al dritto l'andrò a lavorare al dritto la maglia al dritto la lavorerò al dritto e proseguo così fino alla fine del ferro bene il nostro terzo ferro del motivo è terminato terminiamo con una maglia al dritto ed ecco qui che ci torna utile aver lavorato maglie pare perché voltando devo ripetere esattamente il ferro che ho appena eseguito cioè andare a lavorare maglia su maglia le maglie come si presentano quindi una maglia al rovescio sopra la maglia al rovescio che è esattamente la prima come per il ferro precedente che abbiamo fatto una maglia rovescio al dritto adesso voltiamo il lavoro e lavoriamo esattamente lo stesso ferro una maglia rovescio una maglia al dritto una rovescio un al dritto fino alla fine del ferro cioè lavoriamo le maglie così come si presentano quindi ricordo sempre di passare il filo dietro il lavoro maglia rovescio maglia al dritto maglia al dritto lavoriamo così fino alla fine del ferro ecco qua anche il nostro quarto ferro del motivo è terminato come vedi questo è un punto duple fas in questo momento non vedi bene il risultato finale ma come hai visto dal campione ha un bellissimo effetto quindi ora non dovrei far altro che ripetere questi ultimi quattro ferri per la tua lunghezza che sarà 17 18 centimetri ricordati di invertire i ferri ogni due quindi il prossimo ferro inizierà invertendo le maglie quindi lavorerò una maglia al dritto una rovescio al contrario di come si presentano questi questa è una maglia rovescio la lavorerò dritto dritto la lavorerò rovescio rovescio la lavorerò dritto e così via fino alla fine del ferro prossimo ferro lavorerò le maglie come si presentano e poi quando giro il lavoro di nuovo invertirò e lavorerò le maglie al contrario di come si presentano ok ci rivediamo fra 17 centimetri bene abbiamo lavorato i nostri centimetri ecco qui e ora andiamo a preparare gli scalfi quindi andiamo a fare delle diminuzioni a inizio ferro e a fine ferro andiamo a diminuire quattro maglie a dritto del lavoro vediamo come fare andiamo a lavorare la prima maglia a dritto poi andiamo a lavorare la seconda maglia a dritto poi con il ferro di sinistra andiamo a prendere la prima maglia lavorata e la cavalliamo su quella appena lavorata prima diminuzione andiamo a lavorare la seconda maglia e a cavalliamo un'altra volta facciamo la terza diminuzione lavorando sempre uguale e poi lavoriamo l'ultima maglia e andiamo a cavallare la nostra quarta maglia quindi abbiamo fatto le nostre quattro diminuzioni bene questo è l'inizio del nostro scalfo e quindi adesso dobbiamo arrivare a fine ferro continuando il motivo siccome questo è il ferro dove andrò a cambiare la lavorazione andrò a lavorare le maglie al contrario di come si presentano e lavoro così fino alla fine del ferro lavorando tutte le maglie fino alla fine bene ora siamo arrivati alla fine del ferro andiamo a ripetere le diminuzioni dall'altro lato quindi voltiamo il lavoro le prime diminuzioni le abbiamo fatte al dritto e queste le faremo a rovescio e andiamo a ripetere esattamente le stesse quattro calature questa volta a rovescio del lavoro le maglie le lavoriamo a rovescio quindi le prime due maglie lavorate a rovescio poi a cavallo la prima lavorata sulla seconda vado a lavorare la terza maglia a cavallo la seconda sulla terza vado a lavorare la quarta maglia e a cavallo la terza sulla quarta e poi vado a lavorare la quinta maglia e a cavallo il mio quarto la mia quarta diminuzione quindi la mia quarta maglia e poi vado a lavorare le maglie così come si presentano lavoro tutto il ferro fino alla fine bene ora cominciamo una serie di diminuzioni quindi voltiamo il lavoro e andiamo a diminuire una maglia all'inizio e una maglia alla fine del ferro e questo lo facciamo ogni due ferri quindi vado a lavorare la mia prima maglia seguendo sempre il disegno delle mie del mio motivo del mio punto vado a lavorare due maglie insieme così semplicemente come se fosse una sola e poi continuo a lavorare fino alle ultime tre maglie seguendo sempre lo schema del mio punto quindi ci rivediamo a fine ferro alle ultime tre maglie eccoci qui alle ultime tre maglie quindi andiamo a lavorare le ultime tre maglie lavorando insieme in questo modo le due maglie in questo caso le lavoro a rovescio e poi lavoro normalmente l'ultima maglia adesso andiamo a continuare a fare le calature per fare il disegno della della manica andiamo a diminuire una maglia per lato ogni due ferri quindi il prossimo ferro lo farò senza diminuzioni e poi continuerò ad alternare un ferro di diminuzione un ferro senza diminuzione io ho fatto 18 diminuzioni quindi all'incirca 36 ferri questo è l'inizio dello scalfo e poi sono andata su in diagonale ho lavorato tre ferri senza diminuzioni e questo è il risultato ora non ci resta che chiudere tutte le maglie che abbiamo sul ferro quindi andiamo a usare la stessa tecnica che abbiamo usato per chiudere le maglie dello scalfo andiamo a lavorare le prime due maglie e poi vado a cavallare la prima sulla su quella appena lavorata poi continuo a lavorare una maglia e a cavallare la precedente su quella appena lavorata e faccio così fino a fine ferro arrivati alla fine del ferro possiamo tagliare il filo e assicurarlo il nostro primo pezzo del top è completato e come vedi questo punto lo lascia ben rifinito ora andiamo a preparare il secondo pezzo uguale identico al primo bene facciamo il punto della situazione ho lavorato due pezzi completamente uguali che saranno il davanti e il dietro del mio top andando a unire i due laterali e appena un centimetro da un lato e dall'altro dello scollo avrò già formato il mio top se voglio mettere le manichine come voglio vado a realizzare due pezzi identici per le manichine le misure ovviamente saranno inferiori quindi anziché 76 maglie ho messo ho montato 40 maglie ho lavorato giusto 6 ferri per la lunghezza delle maniche tu se vuoi le manichine più lunghe puoi lavorare più lungo più ferri e poi ho realizzato le calature per lo scalfo e per il giro manica esattamente come ho lavorato per il davanti e per il dietro ora non ci resta per cucire le nostre i nostri quattro pezzi per formare il nostro top quindi vado ad accostare in questo modo un pezzo il davanti o il dietro con la manichina stando attenta che le parti sono tutte e due dalla stessa direzione rovescio e rovescio dritto e dritto e vado a cominciare a cucire in questo modo passando l'ago da sotto verso l'alto prima in un lembo poi torno nell'altro lembo da sotto verso sopra infilo l'ago e continuo così da un lato e dall'altro a cucire la mia manichina al mio davanti o al mio dietro l'altro lato lo andrò a cucire all'altro pezzo quindi questa parte l'attacco al pezzo davanti e l'altro lato della manichina lo attacco al pezzo dietro ecco qui più o meno come risultano le maniche cuscite davanti e dietro ancora ho da cucire i laterali e cerco di farti vedere un po come appare il lavoro aprendo infatti il lavoro in questo modo questo è il collo e le manichine sono attaccate a dritto e a rovescio sia una che l'altra manichina ecco qua ora vado a cucire i laterali questo top è veramente velocissimo da lavorare e non ha bisogno neanche di essere rifinito quindi vado a chiudere i due laterali e vi faccio vedere il risultato finale grazie a tutti